Il Partito Democratico di Casamiccio arriva come al solito in ritardo e secondo me piuttosto che fare dei comunicati strampalati farebbe bene a spiegare perché se il servizio della spazzatura funzionava come loro dicono egregiamente e che stava portando dei risparmi notevoli di spesa perché hanno pensato di mandare a casa l'amministrazione e perché poi non si assumono le responsabilità dei provvedimenti fatte al Commissario Prefettizio scaricando vigliacamente la responsabilità sui funzionari comunali. Adesso però dicono siamo pronti per scendere in piazza insieme ai cittadini. Arrivano tardi i cittadini che hanno fatto ricorso di testa loro, di propria iniziativa e penso che abbiano fatto bene. In rappresentanza dell'amministrazione uscente c'è il ricorso che l'ha firmato Peppe Zabatta Presidente del Consiglio Comunale a riprova che, contrariamente a quello che hanno dichiarato nelle varie interviste i rappresentanti del PD, l'iniziativa, l'aumento delle tariffe non è stato assolutamente deciso dalla mia amministrazione.